Cari amici di Caos TV, siamo ritornati nel bellissimo Nero Caffè, qua a Imola, a Perifri, ma sono in compagnia, intanto siamo a rete unificate, Caos TV, Televallata, RB, RD, Radio, R, R, C, no, R, mi sono un attimo perso, il mio canale, anche sul mio canale di Youtube, anche sul mio canale, vieni qua. E' una coca pazzesca, vieni qui, non mi fa rincavolare. Allora, vengo lì, lo facciamo a rete unificate, con il canale di Youtube, anche di Simone, la pagina Facebook, siamo dappertutto. Allora, scusate le spalle e le palle che mi girano, ecco. Sì, a rete unificate, mi sembra di essere un po' napolitano l'ultimo giorno dell'anno, comunque. Allora, cari amici, sono contento di essere arrivato qua, capito, perché sono qua per promuovere il mio nuovo disco, che si chiama Come Vorrei, capito, Come Vorrei, Come Vorrei, della gnocca, perché qua di questi tempi c'è crisi, non si trova, non si trova. E allora, cosa vuoi dire? Dimmi quello che vuoi. Se tu ti metti a fare la mia voce, mi viene spontaneo di dire che mi verrebbe non che sei una capra, ma sei... Ma carissimi amici, carissime amiche, collegamento con uno mattina da Caos TV e dalla mitica radio RCB, ma che bellissimi amicoli, siamo in collegamento, è arrivato anche niente po' di meno che il nostro amico, bellissimo, eccolo qua, Roberto Benignone. Ma siamo proprio in diretta, è il bello della diretta questo, con Beppe Grillo. Non ce ne faccio bene, ecco, ci arrivo da Roma e dal Parlamento, ecco che c'è una radioseria. Voglio dire perché si chiama Parlamento, perché parlano, parlano e mentono, non fanno un cavolo dal mattino fino a sera. Io sono qua per protestare, per mangiare, guarda come bevono, guarda come bevono qua. Hanno diritto di bere qua, c'è anche la dottoressa, ecco perché qua bevono talmente tanto che ci vuole la dottoressa. Lei chi è, scusi? Beatrice Lafenice, ornitologa. Ornitologa, va bene, allora la portiamo in Parlamento.